Le scuole primarie terramane fanno il presepe, rispettano quelle che sono le tradizioni natalizie cristiane della nostra cultura? Ebbene, sembrerebbe di sì, perché dal giro che abbiamo fatto negli istituti scolastici questa tradizione, bene o male, viene rispettata. Qui siamo alla Noe Lucidi e come vedete i bambini proprio oggi stanno preparando il presepe. Quindi con gli addobbi natalizi, ovviamente siamo ancora lontani dal Natale, solitamente si preparano dopo l'8 dicembre, però come vedete fervono i preparativi per la preparazione del presepe. È una tradizione che sembrerebbe dunque essere consolidata nelle scuole terramane, al di là delle varie polemiche che ci sono state per il rispetto che ci dovrebbe essere secondo qualcuno delle altre religioni o di chi è magari agnostico o non credente. Ebbene, qui a Teramo invece certi valori ci sono ancora e vengono conservati. Ascoltiamo i dirigenti scolastici. Noi lo facciamo, il presepe, perché il presepe appartiene alla nostra tradizione, quindi non è soltanto un simbolo religioso, ma ha un importante valore culturale identitario. La nostra cultura occidentale si incardina sul pensiero cristiano e ne ha connotato determinate caratterizzazioni. Abbiamo coinvolto i bambini in questo percorso che vede rintracciare nel passato i segni e anche i legami del loro essere oggi qui con noi, come tutti noi. Frutto di un percorso evolutivo e di successo, tutto sommato, perché siamo tutti qui a testimoniarlo. Lo facciamo come lo abbiamo sempre fatto. Questa è una scuola multiculturale. Abbiamo bambini di diverse etnie, di diverse religioni e anche, diciamo, atei. Il presepe fa parte non solo della nostra tradizione, ma anche della nostra cultura. Il termine cultura è un termine così immenso che noi non ci sentiamo più nemmeno di fare un confronto tra le culture. Ma col termine cultura vogliamo dire avere quell'intelligenza, quella apertura, dal momento che oggi si parla di villaggio globale, che ci porta tutti a cercare ciò che è bello, ciò che è buono e quindi ciò che è bene. Ogni anno le insegnanti di religione cattolica si attivano insieme ai loro alunni per allestire un presepe. Sì, lo personalizzano ogni anno, sempre però fatto da materiale costruito da loro. Quindi rispettate sia la tradizione cristiana che anche con materiale magari di riciclo. Certo, perché il presepe non deve arrivare dall'alto qualcuno perché l'ha posizionato lì, ma viene costruito, viene proprio costruito dai bambini.